Andiamo sull'esercizio 2, quindi come sopra, quindi suona a giro armonico sul pattern da A a P, sempre i 4 sedicesimi, ma dicendo a voce alta C sul battere dei quarti. Questo vedrai che è abbastanza difficile, infatti la velocità con cui lo faccio è molto più bassa, perché c'è anche un discorso di coordinazione tra la voce e quello che suono. Andiamo a provarlo, io ho impostato una velocità di 75, quindi ho la mia griglia dei sedicesimi che girano, parto dalla A, 4, C, 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 D. Chit, 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 chit. Chit, 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 chit. Chit, 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 chit. 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 Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. Chit, chit. Chit, 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 chit. Chit, 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 stop. Benissimo, vedi che è abbastanza impegnativo. Allora dopo vai, segna la velocità di oggi sul esercizio 2, quindi lo puoi segnare come spuntato e ti segni la velocità a cui sei arrivato, quindi io ho messo 75, Qua ho sempre il mio limite, che è la velocità a cui riesco ad arrivare facendo l'esercizio tranquillamente. Poi puoi sviluppare comunque l'esercizio in tanti modi come vuoi, già solo cambiando il giro armonico. Io adesso ho fatto Do, Sol, La, Minore e Fa. Però avrei potuto fare qualunque altro giro armonico, te lo scrivi prima e poi lo fai su quello. Nel 3 estrapoli le lettere che ti danno più problemi. Quindi ad esempio la J, quella con i due elevari di sedicesima sul secondo e sul quarto, che è particolarmente impegnativa, puoi metterti lì a provare solo quella, anche magari vai a velocità più bassa o comunque qua hai la possibilità sempre di segnartela in modo da cercare di migliorare soltanto su un aspetto solo e poi metterlo nel complesso di tutto l'esercizio.